Mondrian è il sistema di sedute di Polyform che nasce da un progetto del designer francese Jean-Marie Masseau, a secondo un'ampia libertà di composizione grazie alla sua flessibilità e modularità e ad un'ampia serie di accessori come i cuscini di varie dimensioni e i braccioli e gli schienali disponibili anche in legno e dotate di mensole. Un sistema di sedute proposto in tante finiture e rivestimenti che si abbina alla parete libraria wall system pure di Polyform.